Polizia Municipale Schutzen schierati oggi a Vezzano per celebrare la 26esima edizione della festa del proprio patrono San Sebastiano. C'era per noi Claudio Andreatta. Una salva sparata con armi storiche caricate con cartuccia a carica ridotta è stata la conclusione della 26esima edizione della festa del patrono San Sebastiano a Vezzano. Patrono non solo del Schutzen ma anche della Polizia Municipale. Gli Schutzen erano una milizia volontaria sburgica dedita alla difesa territoriale. Numerosi rappresentanti ai confaloni delle compagnie trentine. Ma perché è importante ancora oggi mantenere questa tradizione? Questa cerimonia, questa festività ha ancora senso perché manteniamo viva quella che è stata la tradizione di un popolo, della propria cultura, della propria tradizione. per tenere salda la nostra radice, parliamo anche di tirolese, anche pur aiutando tutta quella gente che sta arrivando per carità. Bisogna essere disponibili a questi, però stiamo attenti a non perdere quella che è stata la nostra radice, la nostra storia, la nostra tradizione. Infine, tutti a festeggiare al centro didattico al Bersaglio, edificio ricostruito secondo gli originali disegni del 1901 e sul luogo dell'allora poligono di tiro.